Ciao, buonasera a tutti, benvenuti soprattutto. Mi fa piacere vedervi e parlare ai vostri utenti, alla vostra audience. Un traguardo non diciamo incredibile perché in questi anni di attività certificano la qualità di Learn Italy e un traguardo che coincide poi anche con la settima edizione dell'International Business Care Award. Sì, il traguardo coincide precisamente con il mese di febbraio del 2009, quindi 15 anni. Sono molto felice dei risultati raggiunti, poi abbiamo iniziato con Business Care che ha poi creato a sua volta questo premio che avrà nella settima edizione premiati illustri come il nostro Ministro degli Esteri, giornalisti famosi, direttore generale dell'informazione Mediaset, Mario Martone e altre persone che mi perdoneranno se dimentico. Un legame sempre più forte con gli Stati Uniti, questo lo abbiamo visto anche durante la conferenza con ospiti di rilievo. Cito Silvana Mangione in quanto rappresentante della comunità stato in utenza di New York, in specifico l'onorevole Di Sanso, insomma comunque un parterre che certifica appunto questo grande legame con gli Stati Uniti. Sì, beh il fatto che ci sia appunto stato il direttore di Rai Italia, il presidente, il segretario generale di Dante Alighieri, Silvana Mangione in rappresentanza delle istituzioni new yorkesi qui, l'onorevole Di Sanso, l'onorevole Ottaviani eccetera, mi dà la conferma che stiamo facendo bene. Allora le chiedo un saluto ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV e ai nostri italiani all'estero. Perfetto, allora comincerei dai vostri a Napoli penso, no? Giusto? Tutto il mondo, fantastico. A Napoli saluto i napoletani in modo particolare e saluto in tutto il mondo i vostri ascoltatori, so che andate forti, ogni tanto mi è capitato di vedere quello che fate, complimenti per quello che fate, per i nostri connazionali all'estero li amo, punto. Con il professore Alessandro Masi è sempre un piacere essere presente a questi eventi culturali che diffondono l'italianità nel mondo, professore. Davvero, sono un'occasione unica per noi, anche per la Dante Alighieri, di promuovere il sistema Italia. Con Learn Italy Massimo Veccia ha inaugurato una stagione nuova in cui le eccellenze italiane vengono segnalate, il premio in fondo è una segnalazione, è un indicatore di qualità a tutta la nostra comunità e questo è importante. Professore, le prossime iniziative, proprio quelle nell'immediato della società Dante Alighieri, quanto a cultura e diffusione della lingua italiana nel mondo, insomma, credo che non siate secondi a nessuno. Abbiamo 400 di comitati nel mondo, abbiamo 350 centri di certificazione, adesso sta nascendo anche tutta la rete delle scuole d'italiano nel mondo, oltre alla piattaforma, credo che c'è nel paniere parecchia roba da scegliere, da vedere, da selezionare. Allora, le chiedo un saluto agli italiani nel mondo e ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Sicuramente non un saluto, neanche un arrivederci, ma vediamoci presto, perché con la Dante noi ci siamo, voi ci siete, perché si tratta soltanto di trovare l'occasione giusta e questa oggi è la Camera, sicuramente una di quelle. 15 anni di Learn Italy, la creatura di Massimo Veccia, un'iniziativa molto importante celebrata alla Camera. Assolutamente sì, un evento di riconoscimento del lavoro di Learn Italy, che da tempo lavora nell'internazionalizzazione delle imprese italiane e anche, insomma, celebrare e ricordare quello che poi sarà il Business Care Award, che si svolgerà a ottobre, di cui tra l'altro l'anno scorso, ottobre scorso, ho avuto il piacere di introdurlo al Consolato Generale d'Italia New York, quindi introdurre proprio l'edizione New York Kids del premio e spero che quindi sia una cosa che possa proseguire, andare avanti negli anni, proprio per riconoscere le nostre eccellenze italiane nel mondo.